Roma fu una città che conquistò un impero e lo mantenne per secoli. L'impero romano durò per quasi 500 anni nella parte occidentale e per oltre 1400 in quella orientale. Un fatto unico nella storia antica in cui i grandi imperi furono sempre opera di monarchie territoriali non di città. Basti pensare ai grandi imperi orientali, l'impero persiano per esempio, per non parlare dell'impero universale di Alessandro Magno. L'altra sostanziale differenza rispetto a queste realtà geopolitiche è indubbiamente la durata. Perché l'impero persiano restò in piedi per tre secoli appena, dalla fine del VI secolo fino alla conquista da parte di Alessandro Magno avvenuta nella seconda metà del IV secolo avanti Cristo? E perché l'impero dello stesso Alessandro Magno non resistette alla morte del suo fondatore e si disgregò ben presto dando vita alle monarchie ellenistiche? Secondo lo storico Sergio Roda, la spiegazione è da ricercarsi in quello che egli definisce un difetto originario. La debolezza strutturale di questo genere di aggregazioni, scrive lo storico, era dovuta alla mancanza di forti elementi di integrazione delle varie componenti che formavano l'impero stesso. Mancò quasi sempre un intervento che consentisse di superare rapidamente le divisioni etniche, di tradizioni, di costumi, di mentalità esistenti tra i popoli talvolta molto diversi tra loro, popoli che essendo stati sconfitti entravano a far parte della stessa compagine politica. E questo è tutto, ragazzi.